Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 6 febbraio. Ariete, Plutone contrario, mette Pepe nei rapporti con colleghi e superiori. Urano nel segno vi dà la forza per operare i cambiamenti di lavoro o di città. Battendovi per le cose in cui credete, raggiungerete traguardi e ambiti e guadagnerete la stima di un superiore. Toro, la luna nella vergine, Venere, Marte nei pesci si alleano tra loro per farvi incontrare, se siete single, la persona che fa per voi. Datevi da fare, la vostra buona disposizione d'animo farà diventare un evento speciale anche ai fatti quotidiani. Gemelli, metterete a punto delle strategie per scansare i colleghi di lavoro fannulloni e inconcludenti. Risultato? Sarete apprezzati per quello che valete. Non state ad ascoltare chi vi fa perdere tempo e vi fa da zavorra. Nel farlo siate gentili, ma decisi. Cancro, la luna amica nel segno della vergine, riuscirà a bilanciare l'impeto plutoniano che vi invita solerti a trasgredire? Lo scopriremo solo vivendo. Affrontate le questioni finanziarie con le spalle coperte, seguendo cioè il consiglio di un esperto. Leone, giove nel segno si oppone al sole, ma propizia i viaggi e vi offre l'opportunità di scoprire culture e religioni diverse da quelle che vi appartengono. Approfittate del momento più che buono anche per investire in modo azzeccato il vostro gruzzolo. Vergine, qualcuno potrà farvi girare la testa con la sua sensualità magnetica, ma verificate che sia effettivamente una persona in sintonia con voi. Con venere contro la luna nel segno potreste prendere un abbaglio. Siate dunque accorti e astuti. Bilancia avvertirete la smagna di apportare dei cambiamenti, ma è meglio attendere. Con urano contro questo non è il momento. Non fatevi prendere dalla frigola. Fate leva sulla tolleranza sul self-control. Frenate gli entusiasmi. Fate attenzione ai colpi di testa. Scorpione, la luna vi fa l'occhiolino. Nettuno e Venere anche e voi vi lascerete facilmente prendere dal trasporto dell'audacia creativa. Buon lavoro. Con Venere e Plutone favorevoli dovreste cavarvela bene anche nel campo economico. Buoni investimenti. Sagittario, mettete i paletti a quei parenti che continuano imperterriti a violare la vostra privacy e fatelo in modo chiaro e incontrovertibile. Lo si sa che un familiare agisce per il vostro bene, ma se disconosce le vostre scelte, allontanatelo. Capricorno, la luna in vergine prende a braccetto Plutone nel segno per dribblare le difficoltà esistenti nel lavoro, facendo leva su carisma e competenza. Rincontrando vecchi amici, avrete la possibilità di giustificare il vostro recente sparire dalla circolazione. Aquario, il sole nel segno si oppone a Giove in leone. Invece di sentirvi offesi per una decisione presa senza essere stati messi al corrente, fidatevi. Un familiare più saggio e con più esperienza si è addossato l'onere di sbrigare un affare antipatico. Ringraziatelo. Pesci, venere nel segno si oppone alla luna in vergine. Vi sentirete inquieti, agitati. Fermatevi. Non riempite il vuoto che avvertite dentro con la frenesia. Cercate di vivere questa giornata all'insegna di un ritmo più consono alle vostre vere esigenze. Grazie a tutti.